Bene ragazzi, ciao a tutti, io sono Giuseppe Cesarano, probabilmente qualcuno di voi già mi conosce che mi avrà visto un po' su Instagram dal momento che lavoro prettamente con questo social, qualcun altro di voi no, come giusto che sia, insomma. Io sono uno studente di Big Luca da ormai circa due anni, dal momento che lui ha approdato in Italia, si può dire grazie al cielo che ha approdato in Italia, perché fino a quel momento nel campo del marketing, ragazzi sapete che non si capiva niente e anch'io personalmente ho perso tanto di quel tempo e tanti di quei soldi che voi non ne avete un'idea, prima dell'arrivo di Luca nel mercato italiano, come dicevo fortunatamente meno male che è arrivato lui perché ha messo un po' tutto in chiaro, tutto a posto, tutto al suo posto, quindi sono un suo studente da circa due anni e questo video era per fare un po' di feedback sia sulla sua persona sia sul nuovo percorso formativo, infomarketing per babbuini ovviamente, che tra poco tempo ovviamente il prezzo si alza, quindi chiuderà tutte quelle cose lì che sapete, insomma. Come dicevo all'inizio di questo video, io principalmente sono su Instagram perché lavoro sfruttando, ok? Sfruttare ragazzi italiano significa trarre frutti, ok? Quindi sfrutto Instagram per fare soldi, per lavorare, essenzialmente una social media marketing agency, quindi col mio team curiamo e gestiamo profili Instagram sia di privati che per aziende, quindi capirete anche che in questo periodo ultimo, negli ultimi mesi di lockdown, di quello che c'è stato, bene o male non abbiamo avuto grossi cali perché lavorando anche con privati, soprattutto con privati, questo ci ha permesso anche e soprattutto di aumentare i nostri fatturati, dopo capirete altre situazioni. Non voglio far durare questo video molto molto tempo, anche perché io sono il primo che i video lunghi non li guardo essenzialmente, ok? Quindi se mi si pone davanti un video di 10 minuti tendenzialmente non lo guardo se non mi interessa, quindi cercherò di fare una cosa molto breve. Quindi dicevo, ho una social media marketing agency, un team di persone, ormai siamo 5 persone nel mio team, sono partito un po' di tempo fa da solo con una persona che mi gestiva il servizio cliente, adesso siamo in 5, ok? Compreso me, quindi più altre 4 persone, siamo in 5 e soprattutto, come dicevo, in questo periodo di lockdown abbiamo aumentato i nostri fatturati del 500%. E questo viene anche dal fatto che io avendo partecipato anche all'ultimo evento di Big Luca, la realtà non esiste a Riccione, dello scorso febbraio, cose chiave, appunti chiave prese a quell'evento mi hanno permesso poi di fare la differenza nel mese, nel mese e mezzo successivo, quando è partito il lockdown essenzialmente. Quindi i fatturati della mia agenzia si sono aumentati, sono aumentati del 500%, poi si sono susseguite tante cose belle, una intervista su un famoso giornale di marketing italiano, ho comprato da poco una moto, un giocattolino, quindi ci stiamo divertendo, le cose vanno bene, ok, però essenzialmente ragazzi quello che volevo dire è che bene anche giustamente quello che insegna Big, tante le cose interessanti, gli spunti che insegna, anche infomarketing per babbini, non l'ho ancora finito, l'ho acquistato da poco, ringrazio il mio venditore d'assalto, Alessandro Berton, ok, non l'ho ancora finito per una questione di tempistica, ovviamente, il corso dura davvero tanto, quindi già questo è un punto a favore per la Big Luca International, che veramente ci sono contenuti lunghi, forti, quindi molto molto interessante, sono circa a metà corso e ho già preso una valanga di appunti ragazzi, qui siamo sempre a studiare, ah io poi ho la cosa di avere i fogli volanti, un casino comunque, si studia sempre essenzialmente ragazzi, quindi ho già preso degli appunti interessanti che sto già applicando nei miei business, e come dicevo, tante cose belle che stanno succedendo, niente cade da cielo, ovviamente, e molte volte le persone si chiedono qual è il segreto del successo, come si fa ad essere una persona di successo, il segreto ragazzi, è che ovviamente non c'è nessun segreto, però vi dovete fare il culo, ok ragazzi, dovete lavorare, dobbiamo lavorare, perché se una persona, se un'azienda, quello che sia, vi dà delle informazioni, delle formazioni, quello che sia, in questo caso anche dei corsi della Big Luca International, ok, ma poi non le mettiamo noi come individui, come agenzia o quello che sia, non le mettiamo noi in pratica, non cambia essenzialmente nulla, ok, quindi tendenzialmente può essere o uno squalo o un pesce, quindi o se è lo squalo che ti mangi gli altri pesci, o se è un pesce stupido che ti fa mangiare dallo squalo, ok, ci siamo come discorso, quindi il mio suggerimento per voi ragazzi è di mettere azione, ok, di lavorare duramente, magari anche mentre gli altri dormono, anche se avete un lavoro da dipendente, ad esempio, quando finite il vostro orario di lavoro, ragazzi, poi lavorate i vostri obiettivi, perché nulla scende da cielo, a Napoli diciamo, nulla scende da cielo essenzialmente, ok, quindi lavorate, lavorate duramente, studiate, formatevi e ovviamente se non volete perdere tempo e soldi appresso a persone che sappiamo in questa industria valgono poche e niente, non facciamo nomi, non facciamo nulla, sappiamo anche di scandali, di casi vari, ok, se non volete perdere comunque tempo e soldi, i soldi li puoi sempre fare nella vita, ma il tempo perso nessuno te lo dà indietro, ok, se non volete perdere tempo e soldi affidatevi comunque ai professionisti, in questo caso la Big Look International con i suoi corsi sono i professionisti, i con la I maiuscola, i professionisti nel settore, quindi come dicevo io sono già studente da un po' di tempo, ho i corsi, ho preso anche l'ultimo corso, sto finendo di studiare, sto finendo di applicare le strategie all'interno, fate quello che dovete fare, chiamate il vostro venditore di riferimento della Big Look, non mi entra niente in tasca a dirvelo ovviamente, però il corso merita, l'azienda merita, i corsi della Big Look in generale meritano, ragazzi fate quello che dovete fare perché vi conviene e ne trarrete beneficio poi al medio e lungo termine, ok? Ciao!